...perché Maxi Lopez comunque non è finito nel dimenticatoio come nome, è un attaccante accostato a tantissime squadre, il suo destino sembra sempre più essere verso l'estero al punto che domenica a Bologna ci sarà il Fulham per trattarlo direttamente, mentre lo Monaco continua a parlare con l'Hamburgo, la squadra tedesca che lo vuole, sembra un po' più defilato in questo momento il Wolfsburg. Rinaudo ha risolto i dubbi e i problemi che c'erano con il Novara, quindi è pronto a firmare il suo passaggio in prestito alla Novara, per Mudingai del Bologna c'è stato un sondaggio timido dell'Atletico Madrid, la volontà del giocatore resta comunque al momento quella di restare a Bologna e di arrivare addirittura al rinnovo del contratto che scade in estate. Per quanto riguarda le altre notizie, Sorensen continua a piacere molto al Genoa, potrebbe arrivare al Bologna proprio via Genoa, ne sta parlando con la Juventus a Preziosi, l'ha detto anche da noi, in mezzo ci sono anche Kofi e Boaci, due giovani che sono al Sassuolo. Il Palermo potrebbe avere una possibilità molto concreta, Viviano in prestito dall'Inter, c'è l'accordo con il giocatore, Viviano che si è ripreso potrebbe andare a giocare, mentre è tornato Milanovic che era andato al Siena, il difensore acquistato dal Palermo in estate e poi girato proprio al Siena. Per chiudere, al Siena piace Alvarez del Palermo, l'esterno onduregno, proposti Benalois o Malunga in cambio, ma è una trattativa difficile.